ehi la ciurma io sono mazzate se non è passato in realtà tantissimo da quando ho introdotto l'ultimo video perché parlando con dis su discord ho trovato una persona molto volenterosa e gentile che mi ha detto che per recuperare manpower in realtà non è quello che viene mostrato bisogna compararlo dalla baracca della baracca dalla tenda qua dei tizi da questo pulsantino qua e cavolo se caro io non ho tutti questi soldi però forse non dovevamo comprare il il vino e così ne ricopriamo solo 1300 ma è nulla però se un altro cioè se abbiamo più gente teoricamente dovremmo perdere nemmeno credo perché siamo di più adesso direi che ne abbiamo preso 1300 dovremmo poterci permettere di prendere l'altra regione no? credo spero quanto abbiamo adesso? ah ma c'è ancora del missing manpower eeeh eeeh 4006 adesso dovrebbe essere abbastanza tranquillo si ah ma questa era anche più scarsa 2006 ah forse perché sta mandando degli attacchi da qua e poi si sta indebolendo non lo so ehm facciamo anche prendere il cibo allora eeeh questo cosa che era? questo dava dei soldi in cambio degli schiavi? si e ci serve allora eeeh Dispatch region, sorry ok andate la no qua c'è un tesoro guarda che storia ok abbiamo recuperato un po' di soldini no eeeh ah no qua non c'è più il coso del medicino abbiamo no abbiamo raccolto le medicini non le abbiamo vendute voglio vendere 15 medicini ne abbiamo parecchie di medicini anche se è una bella situazione eeeh va bene 15 ore sono la ottimo e poi direi ah questi ci sono già di nuovo gli schiavi da catturare vabbè li prendiamo poi partiamo ci sono di nuovo gli hunting ground la ci sono di nuovo gli schiavi da vendere vabbè ma poi dopo se facciamo tutte le storie qua eeeh siamo negli guai facciamo che eeeh attaccare questo outpost a questo punto l'unico problema è che abbiamo pochi soldi appunto per cui sono un po' preoccupato ma va bene allora eeeh questo è più sereno ed è più forte degli altri per cui manderei lui eeeh dovrei mettere però meno rischio questo meno rischio i centurioni no questo qua diciannove ok questa è entrata ottimo perchè lui c'ha il carretto là che è buono ahhh non è buono questo è entrato ma è l'attacco quando è che tocca a noi ok ok non riuscivo mai a tirare giù del tutto beh meno 91 buono meno 18 vai è entrato l'attacco quanti? 30 e abbiamo guadagnato 2 di morale ottimo e abbiamo guadagnato 21 di così ahia perchè 30 qua fa 31 ahia è saltato meno 5 di morale è malissimo eeeh ci proviamo? ottimo è entrato la difesa no non ce la facciamo a portarlo a meno di 1000 è fallito l'attacco dai 40 anni? ma mi fa 52 ah perchè perdiamo 40 anni di manpower ma il relativo armi strength wow malissimo le non stiamo perdendo ma le stiamo prendendo comunque di brutto è vero che sono tanti loro però cavolo ci ho speso 4000 per loot range o ma solo loot range perchè non ti ci ma ehm tanto lo loot range non prendiamo niente per cui è meglio tirare giù gente no? ma dai di nuovo meno 51 ho speso un fracco di soldi per questa gente ho speso un fracco di soldi per questa gente no non li tireremo mai giù meno 74 buono oh più loot ma tanto non la prendiamo la cassa comunque meno 22 quanti? a meno 5 di rischio ai centurioni va bene ma non è che ci interessa così tanto aia 104 4 serva qualcosa a tirarglielo giù così tanto facciamo così magari visto che costa tantissimo il power allora lui è salito un po' ah no lui ha sbloccato il l'assedio ottimo qui è già al top per cui ok abbiamo guadagnato 40 di experience ma abbiamo perso 5 di morale e 363 di manpower allora eeeh super track quest dov'è? eeeh il no ho sbagliato? eeeh no e missioni ah devono imparare il primo spilus perchè ci darà una missione di sicuro dove vanno tra l'altro loro a a riposarsi vanno giù? qua sono eeeh 2.608 3.976 cavolo però magari adesso che partono da la si indebolisce la mettiamo un leale la mettiamo un leale eeeh dov'è che vanno ad attaccarci più che altro? ah lassù ok non siamo troppo lontani se non altro abbiamo bisogno di provviste cose o no? quando partono quindi partiranno di qua 3.976 ricordiamoci ah questo l'abbiamo scoperto le missioni di pacificazione che vengono svolte dalla regione che ce ne sono varie diverse possiamo spendere cose diverse le ultime due mi pare che me le fate così questa invece ci fa fare la missione a noi ok un po' un po' un po' decennato assassino? suono semplicemente di sicuro la nostra scorta è più forte che non uno assassino E se fermiamo questo assassino? Perché non proveranno di nuovo? Ok Va bene quindi devo fare una di quelle missioni di pacificazione in cui devo mandare uno dei miei Aspetta però ci sono delle novità al mercato mi sa vediamo se c'è qualcosa di buono per recuperare un po' di soldi Ah ci sono pochi soldi ma tante razioni E niente è solo 2.300 di denari riesco a recuperare qualcuno magari con 2.300 di denari Oh niente Replenish Se metto tipo 498 denari Sono 166 ma è meglio che niente A saperlo avrei speso i miei soldi in modo diverso Ma in realtà non è che li ho spesi in modo diverso Aspettate un attimo Anche se mi pagano poco il cibo posso anche venderglielo Sì Vabbè Conserviamolo per ora per quando sarà meglio Come situazione Ma perché in realtà abbiamo così tanto cibo così tante altre risorse che non Mi sembra indispensabile a fare tutto ciò Eeeh Forse dovrei risuonare là qualcosa per... Per poter fare la situazione Eeeh No Fremiareci qua Missing Manpower no non è nessuno Quattromila Quattromila Tremila nove settantasei Sono sempre loro Ma per un attimo dovrà apparire il cosino Ecco qua Fabio è tornato Sempre il 3976 Teoricamente con l'attaccarci dovrebbero indebolirsi Credo Speriamo Quattromila nove settantasei È un bel casino No Ah sono partiti da qua Ma sono sempre 3100 Allora non diminuisce Aumenta solo Ma è È un bel casino Questa ci dà un sacco di loot Sembra Allora facciamo Eeeh Allora direi che dobbiamo Farli scendere il più possibile Per cui Questo costa davvero un sacco Andiamo su questo Vai con questo Recuperiamo un po' di morale Così magari possiamo Ecco Spenderne un po' Per tornare là E avere un po' più Di Eeeh Manpower Allora Lui è sedito leggermente E abbiamo perso 250 Di manpower Che Non è per nulla Una buona situazione Però abbiamo due Eeeh Eeeh Loot Va bene E abbiamo dato anche esperienza Ottimo Se ne fosse uguale come Eeeh Morale Ma Se facciamo Vendiamo Le cose Le mediciozze Le mediciozze Eeeh Guarni Qua Qua Ah Pacify region è qua Ma ce l'ho ancora di acqua Si Non l'avevo mica vista Quella roba Avrei potuto farlo prima Eeeh No io manderei a Julia Perché Julia è quella più in gamba Eeeh Poi devo mandare gli altri Allora Il triario Il sagittario Il princeps Il veles E il princeps Vai Ma quasi quasi Mi sa che lo farò Off camera Tutto ciò Perché è già passato Parecchio tempo Eeeh Sennò diventa lunghissimo Quindi Eeeh Vediamo solo un attimo Che tipo di missione Eeeh Eeeh Dobbiamo Tirarne giù 18 18 18 18 Sono tantissimi E' vero che abbiamo anche gli altri alleati Eeeh Eeeh Ne abbiamo 5 qua e 3 qua Poi arrivano i rinforzi Che casino Vabbè Niente Ci proverò Eeeh Detto questo Vi invito a lasciare un mi piace Un commento qua sotto E iscrivetevi Per caso non lo stai già fatto Ciao a tutti e buona giornata.